Allora, io mi chiamo Ahmed, sono un ragazzo da un certo P, stiamo lavorando alle macchine utensili che si trovano là. È un progetto che tratta di una macchinina, una specie di go-kart, dobbiamo restaurarla, mettere un po' a posto i prezzi, faremo una gara con tutte le altre scuole dalla Città Alta. Io sarò presente alla gara di Città Alta, guiderò la macchinina e speriamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto sia valsa la pena.